Andrattoli, Massigliano, Medi, con il numero 1, Gianluigi, Ustaz, numero 4, Medi, Medi, numero 5, Nidane, Pjanic, Nidane, numero 6, Sami, Nidane, numero 7, Blank, Nidane, numero 10, Paolo, Nidane, numero 11, Duras, Nidane, numero 14, Blank, Nidane, numero 15, Daniela, Massigliano, numero 17, Mario, Nidane, numero 29, Quattro, Nidane, a disposizione con il 16, Pinzoglio, 21, Scesti, 2, Decidio, 8, Marquisio, 9, Nidane, 12, Alessandro, 21, Revedez, con il 24, Lugani, 26, Steiner,